Peccato questa sera, secondo me avevamo un approccio giusto per la partita, ci siamo comportati abbastanza bene, abbiamo sfruttato le squadre speciali, il power play ci siamo comportati bene, abbiamo capitalizzato quando lo avevamo. Piccole disattenzioni, quei due gol nel terzo tempo chiaramente sono costati la partita, ma sono quelle piccole perdite di lucidità che abbiamo già visto precedentemente, su cui dobbiamo certamente lavorare. Non c'è tempo da piangersi addosso, ci concentriamo per sabato.